buongiorno sono marco olivotto e vi do il benvenuto a questo video che riguarda la gestione della stampa in particolare in photoshop iniziamo parlando di monitor e stampa nell'epoca digitale la maggior parte delle fotografie delle immagini viene visualizzata su un monitor può trattarsi del monitor del nostro computer o di quello di un dispositivo una fotografia naturalmente può anche essere stampata con diverse tecnologie di stampa e su una molteplicità di supporti che è cresciuta veramente a dismisura negli ultimi anni in generale un monitor e una stampa si comportano in maniera molto diversa tra loro il primo opera per mezzo di luce diretta la seconda sfrutta invece la luce riflessa in generale il monitor emette luce ovvero è un cosiddetto corpo autoluminoso quindi quando osserviamo una fotografia a monitor percepiamo una luce che viene emessa dal monitor stesso la luce diretta per l'appunto una stampa invece riflette la luce che la colpisce questo ci conduce a una conclusione ovvia l'aspetto di una stampa dipende dalle condizioni di luce in cui essa viene visualizzata dobbiamo anche parlare di gamma dinamica un monitor ha una gamma dinamica più estesa della stampa ma per chiarire cos'è esattamente la gamma dinamica la prima cosa che dobbiamo fare è misurare la massima luminanza il cosiddetto bianco di un monitor o di una stampa se è quella che stiamo osservando nel caso che si tratti di una stampa il bianco è naturalmente il colore del supporto sul quale la stampa viene effettuata dobbiamo poi misurare la minima luminanza il cosiddetto nero nel caso del monitor è un concetto abbastanza ovvio nel caso della stampa invece è legato alla massima copertura di inchiostro che riusciamo a ottenere su un determinato supporto calcoliamo ora il rapporto tra le due grandezze dividendo la prima per la seconda questo rapporto prende il nome di gamma dinamica per l'appunto in un monitor una gamma dinamica pari a 1000 a 1 è abbastanza comune significa che il bianco del monitor è mille volte più luminoso del nero arrivare a 500 a 1 in una stampa è invece un grandissimo successo la gamma dinamica dipende essenzialmente da due fattori il processo di stampa che viene utilizzato e la qualità del supporto su cui stampiamo a titolo di esempio nella stampa su quotidiano una gamma dinamica pari a 40 a 1 è del tutto accettabile pur essendo estremamente ridotta qui nasce un problema di contrasto la gamma dinamica determina il contrasto dell'immagine i numeri che abbiamo appena citato giustificano il fatto che le stampe appaiano di norma meno contrastate rispetto a un monitor domanda dobbiamo modificare la visualizzazione a monitor risposta in un certo senso sì vedremo poi come dobbiamo però affrontare anche un problema di gamut molti dei colori che un monitor è in grado di riprodurre non sono stampabili questi colori cadono fuori dal gamut dello spazio colore di destinazione che è lo spazio colore di stampa andiamo a vedere un esempio che risulta parecchio istruttivo in questa slide abbiamo due spazi colore a confronto a sinistra quello di un monitor ad ampio gamut un eizzo cg 2730 a destra quello disponibile quando utilizziamo una stampante inkjet di ottimo livello come la epson scp 800 con una carta premium glossy ovvero una carta lucida per comodità di confronto ho sovrapposto la forma dello spazio colore del monitor a quella dello spazio colore di stampa e potete naturalmente notare che il primo ha un'estensione decisamente superiore accade che ci sono colori del monitor riproducibili in stampa perché cadono all'interno di entrambi gli spazi colore parto da questo colore e ottengo un colore uguale perché la stampante è in grado di riprodurlo ci sono anche colori che non sono riproducibili se prendiamo ad esempio il verde più estremo che il monitor è in grado di produrre che è questo è facile capire che non riusciremo a riprodurre questo colore in stampa perché esso non esiste nello spazio colore di destinazione che è quello della stampa il problema è particolarmente serio quando abbiamo a che fare con colori molto saturi supporti diversi inoltre si comportano diversamente le carte lucide consentono di ottenere colori più brillanti rispetto a quelle opache ma a questo punto possiamo pensare di prevedere il risultato in generale la regola è che una prova di stampa rappresenta la soluzione migliore la cosiddetta prova colore viene chiamata anche hard proof ovvero una prova fisica tangibile che possiamo tenere in mano se non è possibile realizzarla possiamo utilizzare una soft proof ovvero una prova non fisica virtuale a questo punto andiamo a vedere in photoshop come si possa realizzare una soft proof prima di andare in stampa è abbastanza evidente che se decidiamo di lavorare con un'immagine come quella che state vedendo stiamo cercando rogne come si suol dire questa fotografia ha colori che sono praticamente fluorescenti e in larga parte impossibili da riprodurre in stampa ci sono due diversi livelli di indagine sulla loro problematicità innanzitutto notiamo che nel menu visualizza ci sono tre voci principali dedicate a ciò che ci interessa imposta prova prova colori e avvertimento gamma la prima cosa da fare è impostare la prova selezioniamo personale una voce che ci permette di scegliere le condizioni di stampa cliccando vediamo che si apre una finestra che ci permette di scegliere delle condizioni specifiche notiamo che a prescindere dalle impostazioni si è alterata notevolmente la visualizzazione possiamo alternare con la casella anteprima tra la visualizzazione originale e quella attuale vogliamo fare una simulazione utilizzando lo spazio colore di stampa visto nelle slide simuliamo una stampante epson sure color p800 con una carta lucida come la premium glossy questo è il risultato al momento poi esamineremo le diverse opzioni ma per ora limitiamoci a cliccare su ok notiamo che la prova colori rimane attiva quando la finestra si chiude possiamo attivarla e disattivarla senza ricorrere al menu con command y o control y se lavoriamo in ambiente windows clicchiamo per disattivare la prova e come vedete i colori tornano normali andiamo ora ad attivare l'avvertimento gamma shift command y o shift control y se lavoriamo in ambiente windows l'avvertimento gamma è un primo livello di indagine sull'esistenza di colori fuori gamut tutti i colori fuori gamut indipendentemente da quanto grave sia il problema vengono ricoperti con un overlay grigio in pratica tutta la fotografia vi ricordo shift command y per alternare questo è l'originale e questo è l'avvertimento gamma se andiamo a modificare la prova e scegliamo un altro tipo di supporto come ad esempio una carta a marte cioè opaca notiamo che l'area fuori gamut si estende ci sono ancora meno colori quindi che risultano riproducibili annulliamo per mantenere le impostazioni originali e utilizziamo shift command y per disattivare avvertimento gamma e simuliamo ora la prova vera e propria per attivarla utilizziamo command y e in questo modo visualizziamo quello che potrebbe essere il risultato finale originale stampa originale e stampa vediamo una generalizzata attenuazione dei colori in particolare dei verdi e dei blu più intensi che questa operazione mette in luce se torniamo su imposta prova notiamo che ci sono varie opzioni ad esempio la simulazione del colore della carta e l'intento di rendering di solito gli intenti che si utilizzano sono soltanto due percettivo e colorimetrico relativo come potete notare se zoomiamo nell'immagine il risultato è diverso percettivo e colorimetrico relativo in generale non si può dire a priori quale intento dia i risultati migliori bisogna verificare e decidere anche in base al proprio gusto la compensazione del punto nero invece deve essere lasciata attiva nel 99 per cento dei casi certe stampanti molto poche richiedono che la compensazione del punto nero venga disattivata ma questo va valutato di volta in volta possiamo fare lo stesso tipo di operazione anche dalla finestra di stampa che con ogni probabilità è abbastanza nota a tutti questa è la finestra di stampa abbiamo innanzitutto una epson scp 800 selezionata come stampante possiamo accedere se lo desideriamo alle condizioni di stampa che andremo a impostare in maniera opportuna nel driver ma la cosa più importante in assoluto è che alla voce trattamento del colore dovremo selezionare gestione colore effettuata da photoshop questo ci permette di andare a verificare che il profilo colore della stampante sia corretto questo ovviamente non lo è srgb è uno spazio standard andiamo di conseguenza a selezionare epson scp 800 series premium glossy che è il profilo colore che ci interessa attiviamo la compensazione del punto nero e andiamo poi a scegliere un intento di rendering al momento non notiamo alcuna variazione questo dipende dal fatto che dobbiamo attivare la corrispondenza colori di stampa in questo modo ritroviamo la medesima situazione vista prima l'intento colorimetrico relativo fa tendere le aree blu ciano al viola mentre l'intento percettivo mantiene meglio il loro aspetto se lo desideriamo possiamo anche qui attivare l'avvertimento gamma che è esattamente quello che abbiamo visto prima e possiamo simulare il bianco della carta un'osservazione importante quando avremo realizzato la nostra stampa se vogliamo confrontarla con il monitor dovremo fare il confronto con la prova di stampa e non con l'immagine originale stesse condizioni quindi altrimenti partiremmo con una simulazione falsata la prova di stampa è importante anche in fase di post produzione perché ci permette di avere un'anteprima di ciò che facciamo quando attiviamo la prova colori abbiamo un'idea di come apparirà l'immagine in stampa se quello è il risultato che ci sta a cuore è conveniente lavorare in post produzione con la prova attivata soprattutto nelle ultime fasi della post produzione stessa questo ci permette di capire in che direzione vanno le nostre modifiche a questo punto riassunto e conclusioni innanzitutto un monitor e una stampa sono intrinsecamente diversi un monitor di buona qualità è in grado di simulare il risultato di una stampa per questo conviene utilizzare un monitor ad ampio gamut esiste ad esempio un modello eizzo come il cg319x che sotto opportune condizioni di calibrazione vale come prova colore certificata secondo lo standard iso la prova colore si realizza per mezzo della soft proof che abbiamo attivato in photoshop sia nella finestra principale che nella finestra di stampa è essenziale scegliere i parametri di calibrazione del monitor in modo che ciò che mostra sia in linea con le condizioni di visualizzazione della stampa non si tratta di un processo necessariamente semplice e in generale richiede tempo e pazienza ma vi assicuro che alla fine paga come si dice è parecchio infine questa procedura è valida anche per le stampe in laboratorio nel momento in cui il laboratorio vi fornisce i suoi profili icc di stampa per laboratorio intendo in realtà qualsiasi stampatore dovete utilizzare quei profili icc per realizzare la soft proof a monitor finiamo qui e mi auguro che questo video sia stato interessante e vi do appuntamento alla prossima uscita grazie a presto